Buongiorno, stavo facendo un po' di riflessioni, io ho questi frammenti di pensieri, poi non ho le parole per esprimere, nemmeno male che non li esprimo tutti, se no farei dei danni pazzeschi, però guardavo un po' in giro, c'è questa faccia, queste facce strane, la gente è strana, si parla di referendum sì o no, la gente non sa cosa fare, non va a votare, sembra che non li riguardi, ma com'è possibile che non li riguardi? Invece è possibile, ho fatto un po' di indagine sul trend di Google e viene fuori una cosa molto interessante, se voi guardate il grafico della Costituzione di Google, cioè delle ricerche che hanno fatto per informarsi sulla Costituzione, è fantastico, c'è un picco che arriva fino a 100 nel 2006 quando abbiamo fatto il referendum sulla Costituzione di Berlusconi che è stato bocciato, da lì la gente andava a informarsi, il picco è a 100, dal 2006 a oggi zero, zero, è andato a 40, con tutte le trasmissioni, con tutti i generi di informazione, costituzionalisti, la Costituzione, il Senato, le Camere, la libertà, la democrazia, niente, non c'è assolutamente neanche il tentativo di informarsi su cosa sia, su cosa sta succedendo. Poi sono andato a vedere un'altra parola che mi interessava, crisi, allora andiamo a vedere la crisi, cazzo siamo in crisi, tutti che parliamo di crisi, esci dalla porta, siamo un crisi, grillo, siamo un crisi, allora vediamo un po', ho digitato la parola crisi, la parola crisi, la stessa cosa succede, c'è un picco nell'ottobre del 2008, vi ricordate la crisi del 2008, su Prime, banca americana, allora la gente andava a informarsi, cos'è la crisi, le banche, il mio risparmio, allora c'era questo entusiasmo, dal 2008 a oggi, se guardate il grafico, segue esattamente il trend della Costituzione, se li sovrapponiamo, più o meno il trend è lo stesso, picco e poi indifferenza, picco e poi non conoscenza, desiderio di non informarsi più, perché? Perché il problema è che se non c'è interesse su queste cose, c'è la depressione e guardate che ha dipinta sulle facce di migliaia di persone, milioni di persone, questa latente, insinuante depressione che hai dentro, che non la tratti neanche più con i psicofarmaci, è un'ansia che hai dentro e questa depressione vuol dire solo una cosa, che hai interiorizzato la colpa e adesso è colpa tua, ti portano via l'articolo 18, ti portano via l'acqua pubblica, ti portano via i soldi ai partiti, benissimo, è colpa tua, l'hai talmente messa dentro questa colpa che non reagisci più e ti fai portare via acqua, sanità, ti fai portare via le telecomunicazioni, ti fai portare via e adesso con questo voto, è pazzesco questo voto qua, ma io non sono mai stato così, io se avessi 20 anni, adesso se avessi 20 anni non so come reagirei, qui non siamo, siamo oltre la dittatura, perché fosse una dittatura e si facesse riconoscere un Pinochet, un generale con le medaglie che dice sono un dittatore, allora uno si organizza, diventa in clandestinità, fa il carbonaro, reagisce, fa delle cose, qui siamo con un involucro di nulla, riempito di nulla che sta svendendo il futuro di tuo figlio, di mio nipote, dei tuoi parenti a delle multinazionali che verranno qua e prenderanno qualsiasi cosa, perché se minimamente leggete tra le righe, sull'articolo 17, l'articolo 5, c'è questa clausola, come la chiamano, spetta una clausola a nome di supremazia, la clausola di supremazia vuol dire che il governo avoca a sé tutti i contratti, tutti i contratti, io che ho fatto l'ambientale, non l'ambientalista, io che ho trattato l'ambiente per 20 anni, parlavo di cose 20 anni fa, ho continuato a girare il mondo a vedere il tipo di energie, i cambi di civiltà che ci sono stati, vedermi scippata da questi malati, malati, malati di mente, io non posso, devo avvisarvi, ripeto non ho più 20 anni, ma devo avvisarvi, questa clausola significa che le multinazionali faranno direttamente i contratti col governo e quindi inceneritori, centrali a carbone, oleodotti, gasdotti, tutto quello che vuoi, stoccaggio, il stoccaggio del gas, lo faranno senza dire assolutamente nulla, faranno il stoccaggio del gas perché lo compreranno d'estate che costa meno, lo prenderanno in inverno che costa di più e stoccheranno miliardi di metri cubi sotto il tuo culo senza dire niente e se protesti, caro cittadino se protesti e allora protesti contro uno Stato e contro il suo interesse, l'interesse nazionale e ti dicono che vai contro l'interesse nazionale perché hai protestato con una centrale a carbone o un inceneritore, applicano una legge e una pena completamente diversa, andiamo verso il rischio veramente di leggi applicate ai terroristi per queste robe qui, ci potrebbe essere questo rischio, io veramente, questa gente sono serial killer, questi qui attraverso questo involucro che hanno riempito di cazzate, cazzate, stanno espropriando il futuro, ma io me ne frego del mio futuro, ho 70 anni, ma stanno espropriando e rubando il futuro di vostro figlio, di vostro dipote, tutti gli sforzi che abbiamo fatto in questi 20 anni di proteggere l'ambiente, ma tutti i miei figli parlano di ambiente, di pista ciclabile, di biologico, di orti, hanno voglia di condividere esperienze, di viaggi, la conoscenza, le prime aziende del mondo non sono più petrolifere, sono aziende che mettono in contatto persone, sono Facebook, sono Twitter, sono queste robe qui, Rockefeller Foundation non investe più nel fossile, non investe più nel petrolio, la Rockefeller Foundation, signori i primi fatturati del mondo, ce l'hanno Facebook, questa gente che mette in contatto persone e questa gente vuole riproporci e riportarci a 20 anni fa, per piacere io mi devo calmare, ma non posso essere calmo, ma non posso essere calmo, ma non si può essere calmi, qui c'è un'espropriazione, è un'espropriazione di pensiero, è un'espropriazione di sentimenti, questa gente che non sa neanche cosa sia un sentimento, siate vigili, guardate il vostro territorio, proteggetelo come fosse una vostra amante, una vostra fidanzata o vostra moglie, abbiamo bisogno di questi temperamenti oggi, contro questi fossili che vogliono di nuovo rifarci preombare nel paleolitico, perché sono nel paleolitico loro, il lavoro sarà una trasformazione epocale, nel 2020, 20, 30 ci sarà una produttività a mille, con i posti di lavoro che diminuiranno, avremo flussi di gente senza lavoro, cosa faremo? Non saremo neanche attrezzati, omettiamo un reddito universale, un reddito di cittadinanza, bisogna con le tecnologie lievi, leggere, rinnovabili, avere un mondo diverso, un pensiero diverso, vi prego, sì o no? Non è un problema, volete non andare a votare, siete degli egoisti se non ci andate, ma egoisti veramente, perché pensate solo al vostro culo, allora va bene, pensateci, io non ho il diritto di giudicare nessuno, ma sappiate che abbiamo di fronte dei serial killer della vita dei nostri figli fra 20 anni, io vi saluto e guardate che il cervello è interessante studiarlo, perché le nostre reazioni, se noi abbiamo questo senso, abbiamo intimizzato il senso di colpa, la colpa non la diamo più alla grande banca, alla Jimmy Morgan, sotto sotto è tutto colpa nostra, è un trucco, è una frode, non cadeteci più e non mangiatevi pezzi del vostro cervello.